Il 26 settembre per Isernia è una data importante. Sarebbero infatti iniziate le festività religiose dei Santi Cosma e Damiano, tra le più sentite della popolazione isernina. Ma il Covid quest'anno, con le relative norme di distanziamento sociale, non ha impedito la realizzazione, come del resto in tutte le altre comunità molisane. Non ha impedito però alla città e ai numerosi fedeli di porgere un simbolico omaggio ai Santi Medici, famosi per le guarigioni miracolose. È dagli inizi del secendo che la fede nei loro confronti si rafforza quando arrivarono nel capologo Pentro le reliquie dei Santi. A Isernia il culto religioso è sempre rimasto strettamente legato alla tradizione, tanto che i fedeli accorrono per chiedere l'intercessione miracolosa dei Santi anche dai territori limitrofi. È il caso dei pellegrini di Contrada Olivella di Sant'Elia Fiume Rapido, che quest'anno neanche il Covid ha fermato. Siamo venuti perché convinti dei Santi Cosme e De Piano, mi scusi, e non potevano non essere presenti. Quindi allora anche, stanto l'inglevenza del tempo e il nostro coronavirus, ci siamo avventurati e viva Dio, siamo qua come sempre. Salta dunque la tradizionale processione. I busti dei Santi quest'anno avranno una scorta speciale che li accompagnerà a Santuario, le ambulanze di Pentri Emergenza. Nessuna fiera però, niente banda, orchestra, cantanti o cabaret. Resta solo la devozione, la fede nei miracoli e, mai come ora, la speranza nei Santi Medici. La situazione storica che stiamo vivendo ci impone anche di chiedere proprio a loro, che poi sono i medici, anargeri, quelli che hanno visto nel malato il Cristo, ci impone di chiedere la loro intercessione, perché ci continuino a sostenere con la loro intercessione, ma anche perché stimolino sempre di più medici e tutti coloro che si dedicano alle cure, stimolino a una ricerca sempre più approfondita di come sanare, aiutare e avvicinare con quell'amore caritatevole e fraterno che è la prima vera medicina, quella che solleva anche da quella solitudine che spesso nello sconforto e nello scoraggiamento rendono gli stessi farmaci inefficaci. È per questo che non solo i fedeli di Sant'Elia Fiume Rapido, ma anche la cittadinanza è particolarmente legata a questi nostri Santi Cosma e Damiano.